Grazie molto, signor Presidente. L'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, come tutti sanno, ci ha giudicato 7 miliardi e mezzo di dollari proprio per pratiche di commercio in equo e saranno distribuiti in maniera equa fra i vari paesi in Europa e stiamo parlando al Presidente proprio di questo per quanto riguarda l'Italia. Lui ha pensato che siamo stati un po' troppo duri con l'Italia, noi non vogliamo essere, non vogliamo mai farlo, quindi lo prendiamo in esame con molta attenzione. Questa è stata la richiesta fatta e noi lo esamineremo con grande attenzione. Prego, a lei la parola.